Musica Nuova bocciatura da Palazzo Chigia, la legge sull'acqua varata dall'Assemblea regionale siciliana. Operazione antiterrorismo della polizia di Enna, arrestato un cittadino pakistano che inneggiava la violenza. Arpa Sicilia, un nuovo programma di monitoraggio del mare, un piano di educazione ambientale. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews, oggi è martedì 20 ottobre. Come avete sentito nei titoli, nuova bocciatura da Palazzo Chigia, la legge sull'acqua varata dall'Ars. Il Consiglio dei Ministri ha invitato l'Assemblea regionale a rivedere completamente il testo perché, spiega, è in contrasto con le norme statali. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa della legge della regione siciliana numero 19 dell'agosto 2015, disciplina in materia di risorse idriche. Lo rende noto un comunicato della Presidenza del Consiglio. Numerose disposizioni, spiega la nota, contrastano con le norme statali di riforma economico-sociale in materia di tutela della concorrenza, di tutela dell'ambiente, spesso di derivazione comunitaria, eccedendo in tal modo dai limiti posti alle competenze regionali. Anche in questo caso, però, come avvenuto per la riforma delle province, il Consiglio dei Ministri lascia aperta la possibilità di tornare sui suoi passi nel caso che la legge venga cambiata. In caso di approvazione di una nuova normativa da parte dell'Assemblea regionale siciliana, che riveda completamente il testo, si legge ancora nella nota, il Governo potrà valutare l'opportunità di riesaminare il ricorso. Una decisione lampo arrivata dopo soli dieci minuti di riunione per esaminare sette leggi regionali ed impugnare la riforma del servizio idrico, varata quest'estate dopo non poche polemiche dall'Assemblea regionale. Il Consiglio ha invece deciso di non impugnare la legge della regione siciliana di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014. Salva anche la legge numero 18 del 2015, norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo Stato di naturalità. Si tratta del provvedimento sull'abbattimento controllato dei cinghiali, varato sull'onda dell'emergenza dopo l'aggressione che portò alla morte di un uomo nel parco delle Madonie nel territorio di Cefalù. Il deficit siciliano non è più gestibile. L'isola spende ogni anno più di quanto in casse e dunque il buco di bilancio si allarga. Questa è la fotografia scattata dall'assessore all'economia Alessandro Baccei che ha fatto il punto sulla situazione economica siciliana. La colpa dei conti in rosso, secondo l'assessore, è dei passati governi. Bisogna trovare altre strade. La strada che indichiamo nel documento, che è frutto anche di indicazioni della Corte Costituzionale, nonché di quello che hanno fatto tutte le altre regioni del Stato Speciale, è quello di rivedere i rapporti economici e finanziari con lo Stato e quindi quello che erano i dettati originali del Stato. Quando parliamo di revisione dei rapporti economici e finanziari vuol dire che è una situazione stabile, quindi non è per l'anno prossimo ma è per sempre. Non andiamo a pietire, dall'altro non abbiamo diritto, così come la Corte Costituzionale ci ha detto, se leggiamo alla lettera quello che è scritto nello Statuto, lo Statuto è applicato, però la Corte Costituzionale ci dice anche che la Sicilia ha avuto un danno, per cui bisogna rivedere i patti con lo Stato, cose che tutte le altre regioni del Stato Speciale hanno già fatto. Per cui non è che facciamo una cosa nuova, non è che facciamo una cosa che non ha riscontro, perché ce lo dice la Corte Costituzionale, abbiamo fatto un lavoro preparatorio con la Presidenza del Consiglio che dal punto di vista tecnico e Stato concordato ci vuole la volontà politica di fare le cose. Grido d'allarme degli amministratori siciliani, Orlando, non possiamo permettere che lo Stato di calamità istituzionale della regione siciliana diventi lo Stato di calamità istituzionale anche per i Comuni. Comuni alla distruzione a causa dei tagli regionali e nazionali con inevitabili e conseguenti mortificazioni per i cittadini, questo è il grido d'allarme dei sindaci siciliani. Non possiamo permettere che lo Stato di calamità istituzionale della regione siciliana diventi lo Stato di calamità istituzionale anche per i Comuni, ha dichiarato Leo Luca Orlando, presidente di Anci Sicilia. Siamo alla fine del 2015 e la regione siciliana non ha ritenuto di sentire i Comuni sulla programmazione 2014-2020 in una regione dove il tasso della povertà è fra i più alti d'Italia. Nel resto del Paese siamo fuori dalla crisi finanziaria e sociale, ma in Sicilia restiamo in uno Stato di vera e propria calamità istituzionale e finanziaria con un conseguente forte disagio che lede la dignità di un'amministrazione pubblica qual è il Comune. Nella proposta del 5 maggio 2014 avevamo già formulato alcune richieste forti che riguardano la nostra attività di amministratori e per garantire i servizi ai nostri cittadini intervenendo con proposte concrete, ma ad oggi malgrado numerose richieste al governo regionale alcuni incontri con i rappresentanti nazionali non abbiamo alcun riscontro. È la prima volta nella storia che il piano di riparto dei fondi per le autonomie per il 2015 non viene approvato dal Lanci Sicilia, continua Orlando. Non possiamo consentire che ad oggi non sia ancora arrivato un euro per il 2015 che sta affinendo ai comuni siciliani, invocando spese varie e patto di stabilità. Rivendichiamo il nostro ruolo istituzionale perché siamo esposti ad una responsabilità enorme in un quadro di assoluta mancanza di interlocuzione. La dignità istituzionale si difende con la legalità delle leggi. Dobbiamo avere rispetto per la nostra dignità istituzionale che deve essere riconosciuta dalla politica. Ma la sanità ha chiesti 4 anni e 6 mesi di carcere per Sergio Palmeri, l'ex primario di oncologia medica dell'ospedale policlinico di Palermo, dove nel 2011 venne somministrata una dosa letale di chemioterapia alla 34enne Valeria Lembo. 4 anni e 6 mesi di carcere, questa la pena chiesta per Sergio Palmeri, l'ex primario di oncologia medica dell'ospedale policlinico di Palermo, dove nel dicembre del 2011 venne somministrata una dose letale di chemioterapia a Valeria Lembo, una giovane paziente affetta da un tumore considerato guaribile. Una requisitoria durata oltre 3 ore, in cui i magistrati hanno percorso la catena di errori che uccise la mamma di soli 34 anni. Sotto processo, oltre al professore Palmeri, c'è l'oncologa Laura Di Noto, per la quale è stata chiesta una pena di 4 anni e 6 mesi per omicidio colposo e 3 mesi per il reato di falso. Altri due, i medici e due, gli infermieri imputati a vario titolo. Alla donna, che si trovava all'ultima seduta di chemioterapia, venne somministrata una dose di 90 mg di vimblastina invece di 9, un errore che uccise la paziente a 22 giorni da quello sbaglio. Qualcuno poi cancellò in modo grossolano quello zero in cartella clinica. Il PM ha avuto parole durissime per i medici specializzandi, definitine, esperti e ignoranti che non sapevano nemmeno cosa fosse la vimblastina, ma anche lasciati soli dal loro tuto, il primario Palmeri. Sono stati commessi errori macroscopici e grossolani, spiega il PM, sia nella preparazione che nella somministrazione del farmaco. La vimblastina, fino a quel giorno, era stata somministrata in vena con una siringa e improvvisamente fu necessaria una flebo. La stessa vittima lo fece notare, ma le fu risposto che andava bene così. Il prossimo 27 ottobre la parola passerà all'avvocato Marco Cammarata, che assiste ai familiari di Valeria Lembo, che si sono costituiti parte civile. Operazione antiterrorismo della polizia di Enna. Arrestato un cittadino pakistano che attraverso i suoi profili Facebook divulgava materiale inneggiante alla violenza. Operazione antiterrorismo della polizia di Enna. Gli agenti della Digos hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e diverse perquisizioni in cinque province. Un cittadino pakistano è stato arrestato perché è ritenuto responsabile di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. Avrebbe divulgato attraverso i suoi profili Facebook materiale inneggiante al Jihad e al martirio, istigando, riferisce la polizia, al compimento di atti di violenza. L'operazione ha avuto origine dai disordini scoppiati il 14 ottobre 2014 all'interno del centro di prima accoglienza Città del Sole di Piazza Armerina in cui era stato coinvolto il pakistano oggi arrestato. I poliziotti hanno accertato che l'uomo era leader della comunità pakistana presente e che nonostante possedesse sei schede telefoniche, tutte date in uso ad altre persone, per le sue chiamate personali ne utilizzava una settima, non intestata a lui. Inoltre gestiva due profili Facebook in cui parlava della sua appartenenza ad un'organizzazione pakistana già di matrice terroristica militare. In uno dei numerosi post pubblicati dall'indagato si legge cerca di interessarti al martirio, la Jihad andrà avanti fino alla fine. Nell'ambito del procedimento penale risultano indagati anche altri due cittadini extracomunitari. È stato fermato all'ospedale civico di Palermo il motociclista di 33 anni che ieri sera ha investito una donna in Vianina siciliana. La vittima, 66 anni, è ricoverata in gravi condizioni nello stesso nosocomio. L'uomo è stato intercettato al pronto soccorso dove si era presentato per farsi medicare una profonda ferita all'avvolto. Secondo alcune testimonianze il motociclista prima dello scontro potrebbe avere tentato di scippare la donna. Indagini sono in corso. Un nuovo programma di monitoraggio del mare in zona del Mediterraneo finora mai sottoposte a controlli è un piano di educazione ambientale per la sostenibilità rivolto a scuole e operatori di aree protette. Sono questi gli ambiti nei quali si muovono due progetti avviati da Arpa Sicilia e presentati oggi a Palermo. Arpa Sicilia ha avviato due azioni per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente. La prima è rivolta al monitoraggio del mare in aree mai verificate prima. La seconda è diretta alla diffusione di comportamenti di sostenibilità ambientale. Per la prima volta Arpa sottopone a verifiche il mare della Sicilia che va dai 3 km di distanza alla costa ai 24 km. Lo prevede il programma monitoraggio dell'ambiente marino per la realizzazione della Marine Strategy nell'ambito della convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e le agenzie regionali. Le prime attività sono partite già da luglio e sono previste da un decreto legislativo che recepisce una direttiva europea. Obiettivo di questo programma è quello di dare, come obiettivo agli stati membri il raggiungimento entro il 2020 di un buono stato ambientale per le proprie acque marine cioè la capacità di preservare la diversità ecologica, la vitalità dei mari e degli oceani affinché siano puliti, sani e produttivi mantenendo l'utilizzo dell'ambiente marino ad un livello sostenibile salvaguardando il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future. Le attività di educazione ambientale per la sostenibilità sono state avviate nell'ambito del PEAS 2015 coordinato dal laboratorio in FEA. Queste riguardano la diffusione di comportamenti sostenibili con particolare attenzione verso i giovani. Per questo sono state avviate i corsi di aggiornamento per docenti per i laboratori di progettazione partecipata che hanno interessato 48 scuole tra medi e superiori 83 insegnanti chiamate a coinvolgere circa 1720 alunni. E adesso ascoltiamo le interviste realizzate a margine della conferenza stampa di presentazione dei due progetti di ARPA Sicilia. Oggi noi presentiamo due progetti quello della Marine Strategy che appunto riguarda un monitoraggio fatto a tappeto ed è la prima volta che si fa in Sicilia nel tratto di mare perché noi abbiamo un tratto di mare molto vasto perché sono circa 1620 km di costa che va da un miglio e mezzo a 12 miglia e quindi diciamo prende un tratto di mare che fino adesso non è stato esplorato molto bene. La finalità è quella di dare attuazione alla Marine Strategy che ha come obiettivo finale nel 2020 di avere qualificato il nostro mar Mediterraneo con il termine con good cioè una buona qualità che è senz'altro un obiettivo arduo e difficile da raggiungere per il fatto che il mar Mediterraneo e il mare intorno alla Sicilia è un mare che ha molti fattori di pressione antropica e di vari fattori. Quando dobbiamo andare a verificare esattamente quello che come dice in termini tecnici è verità a mare lo facciamo attraverso quello strumento lì che sostanzialmente è un piccolo robot infatti si chiama ROV che è un piccolo robot che è in grado di potersi muovere in modo autonomo controllato da noi dalla barca all'interno del fondale alla profondità che noi a cui noi possiamo scendere noi possiamo arrivare qua fino a 200 metri di profondità che ci consente attraverso la telecamera che è quella in basso che può ruotare fino a 180 gradi di avere diciamo delle riprese sul fondale con quella macchina fotota di poter fissare delle immagini ed eventualmente se fosse richiesto se ne fosse necessità attraverso quel piccolo braccio di poter fare dei prerievi tutto questo controllato dalla strumentazione che noi possiamo vedere dentro presentato questa mattina a Palermo un progetto promosso dal consorzio autostrade siciliane che darà la possibilità a 80 laureati delle università siciliane di frequentare degli stage retribuiti l'inseritivo è importantissimo secondo me che va a coniugare la fine degli studi e gli inizi chiaramente del processo lavorativo del percorso lavorativo questo qui è una cosa che ho voluto fortemente io con tutto il consiglio direttivo perché mi sono chiesto i ragazzi che a tutti chiedono chiaramente il curriculum ma nell'ipotesi in cui il curriculum non si viene a formare mi pare chiaro che non si possa mai realizzare per cui assieme al consiglio direttivo abbiamo deciso questo percorso e sarà un'opportunità perché saranno 40 giovani laureati nelle aree tecniche economiche giuridiche e informatiche che occuperanno che saranno da noi per 6 mesi avranno un compenso di 500 euro mensili ovviamente non sarà un rapporto di lavoro ma sarà chiaramente solo uno stage alla fine comunque conseguiranno un titolo che sarà spendibile ed è tutto grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni